Un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato, dalla vasta struttura ciclonica che interessa l'Europa occidentale, la perturbazione che ha coinvolto il nord Italia tenderà a spostare i propri effetti al centro-sud, dove avremo un incremento dell'instabilità proprio sulle nostre regioni meridionali, con piogge, acquazioni e temporali. Osserviamo la grafica della nuvolosità. Avremo infatti un incremento delle nuvole proprio sulle nostre regioni del sud, sui versanti adriatici. Qualche apertura si potrà avere al nord. Passiamo allo zoom delle piogge. Infatti, come dicevo, acquazioni e temporali potranno colpire dapprima i settori terranecini, estensione veloce anche al basso adriatico. Al nord ci saranno ancora residue precipitazioni alternate comunque a momenti un po' più asciutti. Uno sguardo quindi al tempo che ci aspetta nell'arco del giorno. Qualche apertura, come dicevo, interverrà sulle regioni settentrionali dopo un inizio giornata ancora abbastanza instabile, specie sul nord-est. Situazione invece di spiccata instabilità sui versanti tirrenici, con piogge, acquazioni e temporali in movimento a tratti anche sul comparto adriatico. Le correnti ruotano da ovest-nord-ovest, pertanto le temperature inizieranno a calare sulle regioni del sud dopo i valori molto alti dei giorni scorsi. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. Grazie.